Sarà inaugurato il prossimo 28 settembre a Rocceletta di Borgia il Centro per lo sviluppo integrale dei giovani presentato dall'Associazione di promozione sociale OICOS, una realtà che si propone di accompagnare la crescita dei giovani nelle quattro dimensioni della vita umana, spirituale, psicologica, biologica e materiale. Il centro, nato su impulso della pastorale giovanile, nascerà in un immobile rigenerato messo a disposizione dalla diocesi. Un'iniziativa che nasce da un ascolto del territorio, da quelle che possono essere la bellezza e le potenzialità di un territorio, da quelle che possono essere anche le prospettive perché un territorio possa esprimersi al meglio, poi anche però dalle difficoltà, le fatiche che ovviamente sono davanti agli occhi di tutti e non le vogliamo nascondere. Da questo ascolto e dall'energia che viene da delle persone giovani. Non dimentichiamo che questa iniziativa nasce primariamente all'interno dell'esperienza della pastorale giovanile, che non è semplicemente un tenere i giovani a divertirsi un po' o a distrarsi un po', ma al contrario a cercare di scoprire come la fede può anche a dei giovani illuminare delle prospettive di vita e dare senso alla loro vita. All'interno del lavoro della pastorale giovanile e del progetto Policoro, che come ben si sa è un progetto nato proprio per avere attenzione alle difficoltà nel mondo del lavoro e in un modo particolare per i giovani, ecco che nasce questa proposta che direi quasi un sogno, nel senso più bello del termine però, cioè qualcosa di bello e importante che si ha il coraggio di cercare di mettere in pratica. Le forze sono quelle di forze giovani e per cui la diocesi è contenta di sostenere questo progetto perché vede dei giovani che ci credono e ripeto, non in maniera avventata o superficiale, ma dopo aver ascoltato e visto cercano davvero di dare delle opportunità perché questa realtà possa esprimere al meglio la propria ricchezza. Il centro punta a stimolare l'intrapresa sociale in una terra, la Calabria, in cui i propri giovani sono spesso penalizzati e resi soggetti fragili all'interno di un sistema socio-economico e politico che fatica a renderli protagonisti di processi di autorealizzazione e sviluppo. Che dei giovani parlino ai giovani e facciano vedere ai giovani quanto certi principi che il Vangelo ci offre poi abbiano una grande concretezza e interesse in loro vita credo sia davvero una grande cosa.